Luca Vincentini, la sua confederazione insieme a paesi come Francia e Germania, per citarne alcuni, ha come obiettivo cambiare le norme relative ai lavoratori distaccati. Quali le proposte per renderle migliori? Vogliamo ottenere la parità di trattamento per i lavoratori distaccati. Ciò significa stessa paga per lo stesso tipo di impiego dei lavoratori locali. E' il punto sul quale Juncker punta quando parla di revisione della direttiva, ed è quello che vogliamo noi. Perché c'è una rottura tra i paesi dell'Europa orientale e occidentale quando si tratta di cambiare le regole? Fondamentalmente la maggior parte dei paesi dell'Europa dell'Est non vuole che queste regole cambino? I paesi ospitanti vorrebbero interrompere il cosiddetto dumping sociale, così come la concorrenza sleale sui salari quando i lavoratori vengono rimandati nel proprio paese, non rispettando i salari minimi, i contratti collettivi. I paesi d'origine vorrebbero invece mantenere dei vantaggi per poter continuare a fare in modo che le loro aziende usino questi lavoratori. E' chiaro che l'unico modo per uscire da questa situazione è garantire la parità di trattamento in modo da risolvere il problema del dumping. E poi è necessario avviare un processo per la convergenza dei salari e delle condizioni di lavoro per poter superare il divario salariale e il divario sociale ancora esistente, in particolare tra paesi dell'Est e dell'Ovest. Abbiamo visto nei nostri reportage che a volte i lavoratori si trovano incastrati da mediatori che non rispettano i loro diritti fondamentali, i salari, le condizioni di lavoro e così via. Non pensa che oltre a rivedere queste norme sui lavori di staccati ci dovrebbero essere anche più controlli per assicurarsi che gli intermediari non truffino i lavoratori inviati in un paese ospitante? Assolutamente, è vero che l'80% di questi contratti avviene tramite subappalto e non direttamente nelle aziende che ricevono questi lavoratori. Al momento ci sono discussioni in corso a livello europeo che potrebbero affrontare il problema. Una è relativa alla revisione delle norme sulla sicurezza sociale in cui potrebbero essere aggiunti ulteriori controlli. E poi c'è l'idea, annunciata dal presidente Juncker nel suo discorso davanti al Parlamento europeo, di creare una cosiddetta autorità del lavoro. Questa autorità a livello europeo potrebbe essere un'istituzione transnazionale o trasfrontaliera. Si potrebbe realizzare un coordinamento che potrebbe aumentare i controlli. Ovviamente, ancora una volta, tutto dipende dalla responsabilità degli stati membri assicurarsi che i controlli siano presenti e garantire che siano corrisposti salari uguali ai lavoratori distaccati. In conclusione, lei è sicuro che le regole saranno cambiate entro questo mandato parlamentare che termina nel 2019? Le regole devono essere modificate perché sarebbe una perdita di credibilità per l'UE e gli stati membri non concludere in tempo la revisione proposta. L'ultima occasione è il Consiglio dei Ministri del Lavoro del 23 ottobre. L'accordo dovrebbe essere raggiunto in quella sede perché, se non venisse raggiunto, non ci sarà più tempo per il Parlamento europeo di attuare e trasmettere la revisione entro la fine del mandato. Quindi invio un appello agli stati membri per essere responsabili, firmare un accordo, un compromesso in modo che i lavoratori distaccati non siano più solo un mezzo di lotta politica.